buongiorno perdonate il berretto ma anche in macchina fa un po freddino quest'oggi e quindi non avendo protezione naturale come sapete devo ricorrere questi artifici strani che sono questi berretti che tengono caldo queste cuffie ok allora siamo al netto ovviamente di quello che succederà questa sera tra lazio inter nel frattempo sia il napoli che il milan hanno accorciato le distanze il napoli adesso almeno 10 dal secondo posto la juventus il milan è a meno 5 dal secondo posto la juventus quindi era era prevedibile che dopo il pareggio contro il genoa la situazione potesse essere questa cioè il mila giocava in casa con il monza il napoli giocava in casa contro il cagliari e quindi si accorciano un pochino le le distanze direi che quella del napoli sostanzialmente non deve preoccupare la juventus in questo momento a meno che la juventus faccia opera di autolesionismo nelle prossime settimane quella del milan sono cinque punti sono due partite e considerando che c'è anche uno scontro diretto da giocare nel giro di ritorno insomma è una situazione che comunque la juve deve cominciare a tenere sotto controllo perché è vero che una squadra che seconda classifica ha il dovere morale fisico tecnico razionale emotivo passionale quel che volete voi di guardare chi sta davanti ok storico ci aggiungerei anche chi sta davanti ma altrettanto il dovere poi di di guardare chi sta dietro e chi potrebbe eventualmente rimontare tra l'altro ecco parliamo al netto di lazio inter e di bologna roma ragazzi bologna lì e sta veramente facendo una stagione straordinaria direi straordinaria volevo chiudere un attimo la questione relativa agli episodi arbitrali di di genoa juventus perché insomma io tutti si chiedono ma come mai il var non è intervenuto perché non ha fatto vedere a massa gli episodi perché mi riferisco non solo al fallo di mano e ribadisco ancora una volta lo farò tutti i video perché vedo che ogni volta che lo dico comunque c'è ancora chi dice non di voi ma in generale c'è chi dice che che non era rigore perché tocca prima la coscia il braccio già largo al momento della partenza del cross di chiesa il pallone parte da molto lontano quindi lui era già predisposto col braccio largo in questi casi qua la scriminante del tocco di una parte del corpo non vale nulla siccome devo ricordare un miliardo di volte lo ricorderò un miliardo di volte perché non vorrei non vorrei che infatti in base al solito e bello e famoso sentimento popolare questo episodio venisse poi catalogato come non rigore quindi come inutili proteste da parte del mondo juventino devo dire che da parte di organi d'informazione ancora si sostiene e credo ormai sia stato archiviato come calcio di rigore mancato ma nel mondo social laddove si forma appunto questa cultura c'è ancora chi lo contesta cioè sostanzialmente chi non è juventino con tanto di proposte ma è rigore o non rigore secondo voi c'è sì è rigore stop fine del discorso è rigore ripassare un attimo anche le regole o le consuetudine o gli input che vengono dati al mondo arbitrale non stiamo parlando di alibi per un pareggio che il genoa ha meritato perché la juve non ha reso come in precedenza e sia chiaro e quanto all'oggettività stiamo parlando anche della mancata esposizione di malinowski su per il fallo su il dice che è una roba pazzesca no tanto la stessa dinamica del fallo di lucacco della settimana precedente vedete come il discorso della soggettività di cui parlava allegri qui risalte in maniera piuttosto evidente quello era rosso diretto il dice fortunatamente per lui aveva la gamba un pochino sollevata da terra altrimenti rischiava grosso poteva ci poteva scappare tranquillamente la frattura in questo caso quindi e anche lì niente il bar non viene chiamato poi c'è una terza cosa mi è sempre stato detto è sempre stato detto che la maglia tirata comporta comunque fallo blaovic subisce questa questa situazione la sua maglia viene tirata in aria poi scivola lui non cade seguito a quello però la maglia tirata c'era lo consideriamo episodio minore però in nessuno dei tre casi il var chiede a massa di intervenire parlando un po di qua e di là anche con esperti diciamo così del settore è emerso un aspetto che io non avevo considerato che normalmente viene poco considerato che è quello della sudditanza psicologica attenzione non nei confronti del geno ovviamente non nei confronti dell'inter tanto meno in questo caso nei confronti ma nei confronti di un arbitro importante ossia chi c'era probabilmente al var non se l'è sentita di richiamare massa per paura ma magari di sentirsi dire che aveva sbagliato lui e sentirsi magari rimproverare da un arbitro importante come massa che peraltro aveva già diretto napoli inter con tutti gli episodi che già che già conosciamo ecco io quello che posso dirvi è che da indiscrezioni rocchi non è stato molto contento di questa direzione di partita e poi vedremo vedremo se uscirà ad azoni il filmato di un eventuale dialogo al var sulle sulle episodi specialmente quello del fallo di mano di bani non lo so però il discorso è che effettivamente ci possa essere questo tipo di di sudditanza ci può stare ci può stare anche se non è comprensibile non è detta che sia questa la ragione per carità può essere che il var abbia effettivamente dormito però tre volte dormire in maniera così abbastanza evidente diciamo due e mezza dai due e mezza che dorme così in maniera profonda qualche interrogativo ripeto ancora non si è alla ricerca di nessun alibi per il pareggio che il genoa ha meritato perché la juve doveva fare e poteva e doveva fare necessariamente di più in merito a ciò vi ho visto schierati da diversi punti di vista nei confronti di dujan vlaovic del video che abbiamo fatto ieri ho affrontato l'argomento anche quest'oggi su sport media se non so se poi il mio servizio verrà pubblicato anche sul sul sito c'è un problema una componente evidentemente caratteriale mentale psicologica mi viene un po così da contestare quello che mi si dice che è colpa naturalmente di allegri se vlaovic non segna perché in ogni partita vlaovic le sue occasioni le ha avute sono andato anche a cercarmi qualcuna di quest'anno contro la fiorentina ha mancato la palla sottoporta contro sassuolo ha sbagliato davanti alla porta contro il verono ha sbagliato sottoporta contro il genoa sbagliato sottoporta ragazzi cioè non è che c'è non è che un attaccante deve forse avere 18 palloni da giocare e poi il discorso più generale allegri rovina gli attaccanti si vede vada gli attaccanti non segneranno mai eccetera però se la mettete così se è per colpa di allegri che non segnalo gli attaccanti allora per merito di allegri che segnalo centrocampisti e difensori è sempre un discorso di equilibri ragazzi bisogna sempre stare attenti ad andare su certe affermazioni ok la penso così io è poi per carità se siete contrari di parere contrario però io mi sto mi sto basando sui dati di fatto è vero l'attacco segna poco però segnalo centrocampisti e difensori ci sarà merito di qualcuno se se è de merito l'altro questo sarà merito o se no non è de merito l'altro e non è merito questo io la vedo così e poi non lo so non so se ci sarà un secondo video quindi nel frattempo visto che è domenica e nel frattempo iscrivetevi al canale se non ci vediamo è come quando se non ci vediamo per natale ti faccio gli auguri adesso se non ci vediamo questa sera vi do appuntamento a domani iscrivetevi ciao 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 ciao